Giusuè Crescioli questa volta ha una vittoria Vittoria dopo il grande lavoro di domenica scorsa per il tuo compagno di squadra questa volta hai vinto tu Questa volta ho vinto io, sono contento, sono davvero contento Spiegaci il finale Ho provato subito all'inizio ad andare via però poi mi sono rientrati Poi quindi è partito Marco ma mi dispiace è cascato, lo saluto mi dispiace E poi ho cercato di fare una bella volata e ci sono riuscito a vinto Grazie Grazie Grazie